Un lavoro sotto l'albero. Il periodo di Natale offre molte più opportunità di impiego per giovani e meno giovani nel settore del commercio, della vendita al dettaglio, della ristorazione e all'interno di aziende che a fine anno vedono incrementare il volume d'affari. Da Open Job Metis, agenzia riconosciuta dal Ministero che vede il proprio quartier generale a Gallarate, qualche suggerimento utile a che desidera mettersi in gioco con una precisazione. Non sottovalutate un contratto solo perché a breve scadenza potrebbe essere quella la chiave di ingresso nel mondo del lavoro. Ecco, in particolare, quali sono le figure più richieste e quali sono anche i consigli che può dare a chi è interessato a farsi avanti? Partiamo dai consigli. Allora, quello che consigliamo sempre è di scrivere un CV, un curriculum vitae, che sia, diciamo, il più attinente rispetto alle competenze e alle esperienze che una persona ha fatto. Di non rispondere a tutti gli annunci di lavoro, ma di cercare di focalizzarsi su quelli che richiedono le esperienze e le competenze che ognuno di noi ha e cercare di valorizzare queste competenze e queste esperienze. Sicuramente, chi non ha, magari tu mi chiedi, ma chi non ha esperienza? Beh, sicuramente valorizzate le lingue straniere se le conoscete, perché nell'ambito del retail, dei centri commerciali, si può essere richiesto almeno la conoscenza di una lingua straniere, si preferisce sempre l'inglese, e la capacità di utilizzare il PC piuttosto che dinamicità e flessibilità, perché molto spesso nel periodo natalizio viene chiesta flessibilità, in quanto molte offerte di lavoro magari sono su turni e quindi bisogna lavorare anche nei giorni festivi. Le figure più richieste? Beh, partiamo dalla grande distribuzione, addetti alla cassa, addetti alla gastronomia, inventaristi, addetti all'impaccettamento dei pacchi, perché molti negozi e anche centri commerciali danno la possibilità di poter fare dei pacchi regalo super ricercati, quindi quello. Per quanto riguarda il mondo del retail, addetti alle vendite, sicuramente la conoscenza di una lingua straniera è importantissimo, addetti al magazzino, perché immaginiamoci tutta la movimentazione, che ci può essere nel magazzino di aziende piuttosto che di spedizionieri, piuttosto che nella grande distribuzione nel retail nel periodo di Natale. Però anche figure, diciamo, possono essere figure di reception, di segreteria, se ci spostiamo verso le aziende di produzione, perché magari in questo momento devono aumentare il personale in vista proprio di un aumento del lavoro. Diciamo anche che questi sono consigli sicuramente utili, è sbagliato a suo giudizio circoscrivere troppo al periodo natalizio queste richieste, voglio dire, se poi ci si trova con competenze soddisfacenti c'è la possibilità di restare in organico? Assolutamente, diciamo che il periodo, i contratti collegati al periodo di Natale possono essere il primo passo per farsi conoscere l'interno di un ambiente aziendale. Quindi non bisogna mai disegnare un contratto, anche se dura poche settimane, perché è il primo passo per far conoscersi, per far conoscere le proprie competenze e per fare anche curriculum.